Ciao a tutti e a tutte, come state? Io Laura bene, sono a casa e vi faccio questo video per farvi vedere che cosa ho sperimentato in questi giorni, così che lo possiate fare anche voi. È un piccolo esperimento per capire in maniera chiara quanto sia importante lavarsi le mani. Allora, per capire perché è così importante lavarsi le mani, ci servono quattro cose. Un piatto, un po' di acqua, del pepe nero e un po' di sapone. Allora, facciamo finta che il piatto sia il mondo, sia la terra tonda e l'acqua sia al suo interno. Sapete, no, che i mari sono fatti di acqua e noi per il 70% conteniamo acqua all'interno del nostro corpo e quindi rappresentiamo il mondo con l'acqua, con un piatto pieno di acqua. Il pepe invece, facciamo finta che sono i germi. E nel mondo ci sono tantissimi germi. Come vedete, se metto un dito nell'acqua, il mio dito risulterà pieno di germi. Ora si vede male, ma se proverete anche voi lo vedrete molto bene. Ecco, cosa succede? Se io mi lavo le mani, metto un po' di sapone sul mio dito, succede questo. Ecco, secondo me questo esperimento è molto utile per farvi capire quanto il sapone sia potente contro i germi. Ecco, io vi saluto. Se volete provare a fare l'esperimento potete provare con i vostri genitori. Spero di vedervi molto 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 presto. Portate pazienza e lavate le mani. Un bacio grande a tutte e a tutti. Ciao! 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 Grazie.